Un contributo sulla tessera sanitaria da spendere in genere alimentare in una vasta rete di esercizi commerciali. Parte a Lucca dal mese di settembre una vera e propria rivoluzione per uno dei principali servizi a sostegno dei cittadini fragili e delle famiglie in difficoltà. I buoni erogati dai servizi sociali comunali per l'acquisto di genere alimentari potranno essere utilizzati per la prima volta in un'ampia rete di attività su tutto il territorio comunale, non più in un unico punto vendita convenzionato. Stiamo parlando di una vera e propria carta prepagata attivabile direttamente sulla tessera sanitaria. Un servizio che fa un salto di qualità nella direzione della versatilità e dell'efficienza secondo le intenzioni dell'amministrazione. Fino ad oggi infatti il Comune di Lucca era convenzionato con un unico esercizio commerciale di grande distribuzione, quindi tutti i beneficiari dei buoni dovevano necessariamente recarsi lì per usufruirne. Il Comune comunicava mensilmente al negozio la lista dei beneficiari che dovevano spendere il contributo da 80 a 150 euro esclusivamente in un'unica soluzione. Il limite è abbastanza chiaro, adesso ci saranno ad oggi 15 supermercati o esercizi pubblici e prossimamente arriveranno a 25 dove il cittadino in carico ai servizi sociali che avrà bisogno di questi buoni spesa potrà spendere tranquillamente con una carta elettronica come se fosse un ticket restaurant per quanto riguarda i buoni spesa in tutto il territorio comunale. L'altro limite era che prima si doveva fare la spesa per la totalità del contributo erogato mentre attualmente si potrà fare anche parzialmente e quindi dare la possibilità di prendere prodotti freschi e non a lunga conservazione.